buongiorno a tutti oggi sono partito per un giro breve dai due tre ore sono già partito male perché ho sbagliato strada però adesso sono dove dovevo essere all'inizio dovevo arrivare di qua praticamente c'è il percorso della francigena che fa a lungo d'ora di pianezza va bene in ogni caso adesso proseguo verso la tagliafuoco di casellette poi vado ad avigliana poi vediamo un po chiarese fatto non so se faccio figo farlo vedere ma devo farlo vedere lo stesso niente la sto spingendo qui lockdown una pandemia fanno brutti scherzi non sono allenato non è che posso trovare scuse nella pandemia sono allenato boop 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 buongiorno a tutti a